La seduta è aperta. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che mediante il resoconto stenografico anche attraverso la trasmissione televisiva diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione senza l'articolo 143,2 del regolamento del Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Avvocato Pierluigi Di Palma, sullo Stato e le prospettive del sistema aeroportuale. Do il benvenuto a lui, grazie Presidente, al Dottor Claudio Eminente che lo accompagna, al Dottor Forte e alla Dottoressa Costantini. Avverto che dopo la relazione del Presidente si svolgeranno gli interventi dei deputati secondo i tempi che sono stati già comunicati ai gruppi per procedere poi allo svolgimento della replica. Invito pertanto i rappresentanti dei gruppi a comunicare alla Presidenza gli iscritti a parlare. Cedo dunque la parola al Presidente Di Palma per lo svolgimento della relazione. Prego. Grazie Presidente. Buon pomeriggio a tutti gli onorevoli presenti in aula. Vedo numerosi e evidentemente di grandissimo interesse probabilmente questa relazione che vuol fare un po' lo stato dell'arte del trasporto aereo nel nostro Paese, peraltro all'esito di un periodo complesso come il Covid. Io ho voluto portare, ed è a disposizione degli onorevoli, diciamo un po' il dossier Malpensa che è un po' un libro, una pubblicazione da me scritta sulla vera storia di Malpensa che segna un po' lo spartiacque di quello che poteva essere prima e di quello che è stato dopo un po' il trasporto aereo. Cioè Malpensa rappresenta un po' l'ambizione del nostro Paese di avere l'Hub del Sud Europa e nello stesso tempo avere una compagnia di bandiera dominante nell'ambito anche di alleanze europee, all'epoca chiaramente Malpensa doveva essere gestita da Chelemme all'Italia e chiaramente si proponeva in questo modo di avere un player comunitario di grandissimo interesse. Chiaramente nello stesso libro viene scritto che a un certo punto questo progetto svanisce per tutta una serie di ragioni, sono ben descritte anche di carattere politico e quant'altro e quindi il nostro Paese perde questa grandissima opportunità, dico così perché ho avuto il privilegio anche di scrivere il decreto di apertura di Malpensa ed è stato aperto il giorno del mio compleanno, quindi ci tenevo particolarmente a questo progetto. Chiaramente nello stesso libro ci sono delle risposte di carattere politico in cui si dice la risposta a questo problema di non poter avere l'Hub sarà anche un Paese dove ci saranno molti aeroporti che svilupperanno poi un traffico point to point, questo viene detto in maniera abbastanza chiara e così si sviluppa comunque un percorso che grazie comunque anche alle attività governative dell'epoca di finanziamento di realizzazione infrastrutturale e di ammodernamento riesce a contenere in qualche modo la crisi del trasporto aereo che comunque evidentemente si determinava con la difficoltà del progetto Malpensa rispetto anche alla compagnia di riferimento nazionale e quindi la risposta che si riesce a dare è comunque realizzare una serie di aeroporti con concessioni quarantennali che lo Stato mette a disposizione dei gestori che in quel momento avevano la gestione dell'aeroporti senza titolo se erano ancora gestori precari parziali eccetera eccetera e quindi questo consolidamento della gestione quarantennale permette evidentemente di sviluppare politiche imprenditoriali sul territorio. Un esempio per tutti può essere l'aeroporto di Bergamo per esempio che all'epoca sviluppava un traffico di 500 mila passeggeri grazie alla concessione quarantennale oggi è la prima impresa del territorio arriva a oltre 12 milioni di passeggeri dati sicuramente recenti così come vedo Verona ne abbiamo parlato anche no non è arrivato a quei numeri perché aveva perso anche l'opportunità in qualche modo di contrattualizzare Ryanair. Questo nel pregresso che cosa io ero direttore generale dell'ENAC torno da un anno e mezzo da presidente dell'ENAC e quindi abbiamo rilanciato in questo periodo un'azione dell'ENAC che tra virgolette non si candida più a essere parte di un sistema ma in qualche modo sintesi di un sistema. Questo anche in ragione di una provocazione che c'è stata in un convegno sindacale dove prima di me parlava l'amministratore delegato delle ferrovie che evidentemente al mondo sindacale annunciava migliaia di assunzioni quindi quando parlo io dico vabbè io posso rappresentare che assumeremo poche decine di persone se parlo da ENAC se parlo come sintesi di un sistema e al contrario è evidente che anche il trasporto aereo ha anche una grande capacità rispetto al mondo del lavoro e credo che questo percorso in qualche modo trovi risposta proprio in questa proposta di PNA che all'attenzione oggi del ministro dei trasporti ed evidentemente deve trovare un completamento con una procedura anche abbastanza complessa descritta nell'articolo 698 del codice della navigazione che vedrà comunque esprimere il parere anche da parte delle commissioni parlamentari. Tornerò sicuramente sul piano nazionale poi per descrivere in sintesi che cosa diciamo però è evidente che già da tempo comunque le attività dell'ENAC hanno favorito il rilancio del trasporto aereo nel nostro paese e perché già nel dicembre 2020 con il ministro protempore De Micheli presentiamo una relazione molto importante in cui facciamo in qualche modo valutare al governo proprio il fatto che la crisi pandemica sia una crisi di grandissimo periodo che determina sostanzialmente il crollo di oltre il 90% del traffico e però noi al contrario di tanti altri determiniamo un parallelo tra la crisi pandemica e la crisi che si era avuta con le torri gemelle descrivendo quella delle torri gemelle come crisi a v cioè nel senso un crollo verticale forse anche superiore a quello della crisi pandemica però una risalita vertiginosa nell'immediato. Noi nella relazione diciamo che questa invece pandemica è una crisi a u e quindi un lungo periodo di stasi e però una ripresa repentina al contrario di quanto organismi anche internazionali descrivevano e quindi invitiamo il governo ad avere politiche di carattere keynesiano per tenere la fidelizzazione soprattutto dei dipendenti del mondo aeroportuale perché la vera ricchezza del trasporto aereo anche in ragione del fatto del lungo periodo di trainer che è necessario di formazione per poter mettere in linea un dipendente del trasporto aereo e questo effettivamente ha premiato anche perché il governo ha adottato provvedimenti indennizi in favore degli operatori e ha adottato cassa integrazione in dergo e quindi il personale dipendente è rimasto fidelizzato al mondo del lavoro tanto che nell'estate 2022 rispetto ai servizi che hanno evidentemente caratterizzato il percorso estivo l'italia ne esce bene sostanzialmente poi l'ingegnere eminente descriverà anche quelle che sono i numeri in particolare anche natalizi ma tra virgolette quelli estivi danno un disservizio di cancellazione intorno neanche al 2 per cento poco più del 2 per cento ritardi superiori alle due ore che evidentemente sono determinati anche dall'interconnettività del trasporto aereo questi ritardi sono più che altro determinati dal fatto che c'erano grandissimi problemi negli aeroporti del nord Europa e questo evidentemente è qualcosa che premia il nostro trasporto aereo perché effettivamente la curva di ascesa oggi è molto più importante rispetto a quello degli altri paesi così come avevamo anche definito la regola della terza S quindi il presidio sanitario all'ingresso aeroportuale per superare quella che era stata anche introdotta come limitazione a bordo degli aerei la distanza di un metro effettivamente a bordo degli aerei avrebbe significato la morte del trasporto aereo perché nessun aereo poteva volare economicamente in maniera vantaggiosa con una capacità ridotta a meno del 50 per cento dell'onfaccio anche quella è qualcosa che l'ENAC ha proposto sia in sede nazionale ma anche in sede internazionale e questo evidentemente ha determinato dei risultati importanti queste le premesse rispetto evidentemente all'elaborazione del nostro pna che abbiamo portato alla vostra attenzione come proposta è un pna tra virgolette molto semplice se lo descrivo come uovo di colombo cioè nel senso che poi nel momento in cui tra virgolette fatto sembra facile nel momento dell'elaborazione era un po più complesso noi sostanzialmente l'elemento focalizzante è la riconciliazione del trasporto aereo con l'ambiente e quindi il modo di riconciliare questo tema complesso e questo si riesce a fare oggi grazie all'innovazione tecnologica cioè nel senso che evidentemente i passaggi della tecnologia permettono oggi di guardare al trasporto aereo con un modo diverso rispetto al passato perché grazie all'innovazione tecnologica i traguardi che poi si vorranno raggiungere con la decorbonizzazione con modifica della propulsione eccetera evidentemente è un percorso che si può fare e nello stesso tempo noi nel pna proprio per questa riconciliazione con l'ambiente difendiamo le infrastrutture aeroportuali per quelle che evidentemente sono già realizzate come riserva di capacità per garantire chiaramente anche nel futuro quella capacità utile a intercettare un traffico che comunque oggi è esponenzialmente in crescita e riprende quel trend che era prima della pandemia che in qualche modo dà a vedere che tra vent'anni il traffico aereo raddoppia e nell'ambito della proposta sono anche descritti quelli che potranno essere i numeri al 2035 perché diciamo l'ambizione di questo pna è in qualche modo essere un documento programmatico che governa il business aeroportuale da qui al 2035 e quindi questa cornice all'interno del quale si possono sviluppare gli interessi anche di carattere economico effettivamente premiano anche quella che è poi l'interesse pubblico all'interno di un mondo che comunque evidentemente è anche ad esempio confine del nostro paese ci sono problemi di sicurezza c'è la tutela dei diritti passeggeri e quant'altro e questo interesse pubblico per volontà della politica evidentemente è garantito dall'ENAC come soggetto istituzionale che presidia l'interesse pubblico che rimane comunque in un mondo liberalizzato e privatizzato. Nell'ambito di questo chiaramente documento che cosa diciamo? Attenzione perché nel passato si diceva gli aeroporti nel nostro paese sono tanti allora noi tendiamo a sfatare anche un mito perché evidentemente è descritto il fatto che in Italia ci sono solo sei aeroporti che superano i 10 milioni di passeggeri e questo rappresenta il 60 per cento del traffico solo 12 ricompresi quei sei superano i 5 milioni di passeggeri e quello diventa l'80 per cento del traffico solo 16 recuperando sempre quelli dei 5 milioni e quello dei 10 rappresentando il 90 per cento del traffico sono superiori ai 3 milioni di passeggeri quindi significa che in definitiva il nostro sistema aeroportuale confida sulla capacità di 16 aeroporti non sui quelli 138 che si diceva prima. Nell'ambito di questo facciamo un'altra operazione sicuramente importante cerchiamo di mettere a sistema tutta la rete aeroportuale italiana e quindi trasformiamo in reti questi presidi di carattere territoriale e quindi in qualche modo riduciamo a 13 reti aeroportuali il sistema aeroportuale italiano. Questo lo facciamo per due ordini di motivi secondo me particolarmente importanti. Uno guardando in qualche modo alla crescita dove evidentemente se c'è infrastrutture che garantiscono oggi passeggeri a 5 milioni e poi già ne ricevono 6-7 milioni è evidente che c'è la necessità di fare nuove realizzazioni infrastrutturali e nello stesso tempo se del caso poter delocalizzare il traffico su altri aeroporti per poter continuare l'operatività e nello stesso tempo determinare una crescita diciamo secondo i trend descritti. No, e discussioni recenti, io ho incontrato anche il Presidente della Regione Sicilia, cioè l'idea di una, poi per carità passare da quello che si scrive alla realizzazione evidentemente incontrerà grandi problemi però l'idea che Palermo, Trapani e evidentemente Lampedusa possono diventare una rete aeroportuale è chiaro che è qualcosa di importante perché tra virgolette Trapani non è un piccolo aeroporto, è un aeroporto che ha pochi passeggeri però l'infrastruttura è un'infrastruttura che evidentemente potrebbe accogliere molti passeggeri. Al contrario Palermo sicuramente oggi ha una capacità inferiore ai passeggeri che ci sono perché credo che oggi quoti intorno ai 7 milioni di passeggeri come recupero rispetto al trend precedente e però l'infrastruttura ha una capacità per 5 milioni di passeggeri il che significa che ha necessità di realizzazioni infrastrutturali anche per garantire quella che è la futura crescita e questo può avvenire solo se si ha l'idea di un'unica base logistica in un territorio dove evidentemente anche nel PNA si descrive un po' tutto questo percorso del trasporto aereo nell'ambito anche di un'integrazione intermodale e quindi in particolare c'è l'idea che poi anche dei collegamenti interni possano garantire anche la fruizione di un aeroporto rispetto all'altro dove noi introduciamo anche un'altra integrazione intermodale che è stata un po' sfida lanciata da noi cioè l'idea di un'integrazione aria-aria che secondo noi potrà arrivare anche prima di un'integrazione aria-ferro cioè nel senso che tutto quello che è il futuribile del trasporto aereo che anche qui viene descritto in maniera abbastanza importante cioè quello che porta a voler utilizzare l'Air Urban Mobility quindi i droni chiaramente io lo racconto nei convegni un po' come quando si utilizzava le prime volte il telefonino portatile che sembrava qualche cosa dove c'era molto scetticismo molto pregiudizio ideologico e sembrava qualche cosa molto distante al contrario nel giro di pochi decenni è diventato di uso quotidiano ed evidentemente ognuno di noi non potrebbe oggi fare a meno di poter utilizzare un telefonino e io credo che i droni sostanzialmente sono un po' questo elemento di innovazione tecnologica che ha evidentemente una proiezione geometrica più che matematica e quindi c'è uno sviluppo di questa mobilità che in tempi anche abbastanza brevi potrà diventare anche di uso di carattere quotidiano e quindi la rete aeroportuale in definitiva può anche interconnettersi con un collegamento aria-aria che al 2035 evidentemente sarà particolarmente fruibile. Nello stesso PNA noi peraltro scriviamo della valorizzazione dei piccoli aeroporti e anche nel valorizzare questi piccoli aeroporti noi determiniamo anche progetti di carattere concreto come in particolare stiamo facendo con l'aeroporto dell'Urbe qui a Roma dove c'è l'idea grazie anche all'utilizzo di aviazione generale quindi i Tecnam per esempio che è un'industria nostra che sta a capua di grandissimo valore tecnologico con grande capacità di esportazione con aerei di 11 posti che possono interconnettere Urbe con tutta una serie di città questo anche per delocalizzazione turistica ad esempio Viterbo piuttosto che Siena dove evidentemente si può cominciare a pensare che un passeggero può dormire a Viterbo e visitare Roma trasferendosi chiaramente con l'aereo all'Urbe e in giornata in 20 minuti si arriva evidentemente con un eretto di quel tipo con grande sicurezza e chiaramente anche in qualche modo cominciare a pensare alla dorsale adriatica in maniera diversa cioè nel senso che oggi la difficoltà della mobilità sulla dorsale adriatica è particolarmente importante in auto ci vogliono tre ore e mezza con un aereo di aviazione generale in un'ora si è al centro di Roma partendo da Ancona quindi questa idea di costruire questo network chiaramente di azione generale secondo noi potrà avere successo dove peraltro all'Urbe si troverebbe già posizionato il drone che porta a Fiumicino quindi nello stesso tempo si sta sviluppando questa attività ad un aeroporto di Roma per posizionare il collegamento Urbe-Fiumicino nel 2024 poi non sarà il 2024 ma insomma sarà poco dopo si potrà anche arrivare a Fiumicino con il drone e nell'ambito sempre di questo progetto stiamo anche realizzando una pista ciclabile di contorno a tutto il perimetro del piccolo aeroporto del Lube che si interconnette anche quella con una pista ciclabile che porta anche quella direttamente a Fiumicino e quindi questa sicuramente è un'altra sfida importante rispetto chiaramente all'idea di una mobilità che oggi potrebbe confidare anche su aerei che fino adesso sono sicuramente sottoutilizzati ma credo che un po' la paura di volare con questi aerei sia oramai anche superata da un punto di vista anche di carattere generazionale nello stesso tempo sempre nel PNA lanciamo un'altra sfida che è quella secondo me molto importante la realizzazione di uno spazio porto a Grottaglia cioè l'idea del futuribile è legata anche oggi al volo suborbitale anche lì bisogna immaginare che il trasporto aereo è qualcosa di preistorico oggi cioè nel senso che il trasporto aereo ha poco più di 100 anni il mondo spaziale ha poco più di 60 anni quindi l'innovazione tecnologica legata a questa mobilità sicuramente ci permette di guardare al futuro in maniera completamente diversa quindi oramai la mobilità non si guarda più neanche in termini chilometrici si guarda oramai in termini di tempo quindi con un volo suborbitale arrivare in Australia sarebbe qualcosa che in un paio d'ore oramai si arriva su questo noi abbiamo creato un agreement molto importante con l'FE americana andremo adesso i primi di febbraio a trovare la Virgin e ci sta aiutando anche il Ministero degli Esteri per determinare questi contatti e sicuramente crediamo di poter per la prima volta ipotizzare un network di volo suborbitale cioè un volo che dall'America, perché normalmente oggi il volo suborbitale parte da una base e atterra in quella base, l'idea nostra è che dalla base americana possa invece interconnettersi con uno scalo europeo unico peraltro in questo mondo proprio perché l'altro c'era in Inghilterra, quello dell'Inghilterra è uscito dall'Europa quindi diciamo noi avremmo l'unico spazio porto e quindi questo significa che oggi noi rivendichiamo nell'innovazione tecnologica grandi pretese tra virgolette in particolare per l'Urban Air Mobility rivendichiamo un ruolo leader in ambito europeo sulla base anche della regolamentazione questa anche garantita da un ENAC che è un ente anche un po' particolare nel senso che con delibera dal Consiglio d'amministrazione si approvano le regolamentazioni tecniche quindi diciamo approvare una regolamentazione tecnica per noi nell'ambito di un'elaborazione che evidentemente c'è e segue l'innovazione tecnologica può essere disponibile immediatamente una regolamentazione tecnica adeguata e su questo in particolare questo presidio di Grottaglia noi lo stiamo rafforzando proprio per portare tutto quello che è il futuribile del trasporto aereo poi in particolare nell'ambito di questa proposta del PNA evidentemente ci sono delle questioni tra virgolette di carattere politico perché è stato posto in costruzione alla nostra proposta sono arrivate intorno alle 250 osservazioni noi abbiamo predisposto per il Ministro diciamo tutta una serie di valutazioni dove noi riteniamo che alcune siano di carattere tecnico e risolvibile da ENAC ma ci sono evidentemente dei punti di carattere politico che dovranno essere affrontati dalla responsabilità politica in particolare segnaliamo diciamo da una parte noi rivendichiamo tra virgolette l'ipotesi tutta da verificare poi di poter fare entrare per la parte resiliente almeno il trasporto aereo nell'ambito del PNRR laddove ci sia una ricontrattazione del PNRR in ambito europeo è sinceramente da 18 mesi da quando siamo lì oramai la rendicontazione ENAC è tutta coerente col PNRR quindi io credo che intorno a 800 milioni di lavoro sarebbero immediatamente rendicontabili in ambito di PNRR con grande soddisfazione per il mondo del trasporto aereo peraltro permettendo di tenere le tariffe più basse perché al contrario tutte le realizzazioni infrastrutturali comunque vanno a caricare la tariffa aeroportuale se invece riescono ad essere scontati nell'ambito di un intervento di carattere pubblicistico è evidente che non entrano in tariffa e quindi ci sarebbe anche una politica tariffaria un po' più adeguata un altro punto dolente per le osservazioni pervenute non so per la politica è proprio quello degli aiuti ai vettori dove nella precedente legislatura c'era in particolare la risoluzione rosso però condivisa credo all'unanimità dalla Commissione noi eravamo venuti in audizione e quindi l'idea che comunque potessero essere diciamo più trasparenti questi aiuti dati ai vettori e nello stesso tempo noi ipotizziamo nell'ambito del PNA che se c'è tra virgolette che questa modalità tra virgolette di aiuto possa favorire anche la costruzione di un network nazionale e quindi se noi diciamo c'è un aiuto a un collegamento continentale nello stesso tempo ci dovrebbe essere un aiuto per un collegamento di carattere nazionale verso un hub che noi individuiamo in quattro città Roma, Milano, Venezia, Catania e che quindi questo network si possa poi in qualche modo rafforzare soprattutto nell'ambito di questi collegamenti però è evidente che su questo visto che nell'ambito delle consultazioni ci sono ipotesi completamente diverse è chiaro che sarà la politica a dover fare valutazioni di questo tipo infine per non rubare altro tempo io poi lascio evidentemente eminente la possibilità di darvi anche altri dati sicuramente peraltro sui risultati delle OSP di questi giorni piuttosto che sui dati di traffico natalizi però l'ENAC sta affrontando e vorrebbe inserire sempre in queste nuove linee guide degli aiuti di Stato alle compagnie aeree un punto particolare sull'insularità diciamo è una battaglia che noi stiamo sviluppando in cui tra virgolette noi crediamo che l'OSP tra virgolette sicuramente compatibile però sia uno strumento da tra virgolette forse da superare cioè nel senso che rispetto poi alla modifica della Costituzione del 119 dove evidentemente c'è un comma ma diciamo comunque la Corte Costituzionale anche senza quel comma aveva adottato una sentenza dichiarando l'illegittimità costituzionale del bilancio dello Stato perché non aveva favorito con postazione di bilancio l'insularità l'articolo 119 oggi dice che la Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità allora questo 119 della Costituzione collegato al 174 del Trattato europeo dove si dice che dove si prevede che ai fini di rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale l'Unione Miri a ridurre la disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la retratezza delle regioni o isole che sono considerate tra le meno favorite ci porta a ripensare un po' a uno strumento degli aiuti ai vettori come elemento che potrebbe migliorare i collegamenti da e per le isole in particolare la Sardegna perché poi la Sicilia sì e però c'è poi Catania e Palermo che superano in qualche modo la dimensione anche prevista dei 5 milioni rispetto ai cui si possono fare queste operazioni per le isole peraltro c'è già un 20% in più quindi sarebbero 6 milioni dove nelle premesse peraltro degli oriamenti comunitari si fanno vari cenni a questo problema dell'insularità in particolare dice poiché le regioni remote sono penalizzate dalla loro limitata accessibilità agli aiuti all'avviamento per rotta in partenza da tali regioni sono soggetti a criteri di compatibilità più flessibili allora noi riteniamo che siccome gli aiuti al vettore sono poi degli aiuti che vanno contrattualizzati quindi poi alla fine c'è una regola pattizia nel definire che cosa deve fare il vettore che cosa deve pagare il gestore che cosa evidentemente può contribuire la regione c'è peraltro una sentenza molto importante sempre della Corte di Giustizia recente su EasyJet dove la Commissione aveva dato prima un parere negativo mentre la Corte di Giustizia riconosce che poi l'aiuto che era stato alla regione è assolutamente compatibile noi riteniamo e stiamo studiando avevamo già detto al Presidente Deida che nei prossimi settimane nei prossimi mesi siamo a disposizione per verificare se con questi orientamenti si può andare oltre il limite dei tre anni tre anni non ci sarebbe neanche il problema e quindi un'interlocuzione con la Commissione Europea perché si supera il limite di tre anni rispetto chiaramente a questa possibilità questo noi lo vorremmo inserire proprio in un punto delle nuove linee guida che il Ministro potrebbe adottare in ragione sempre di quella che dicevamo prima la risoluzione rosso sugli aiuti ai vettori io non voglio togliere altro tempo lascio la parola un attimo per alcune altre considerazioni all'ingegnere Eminente e poi resto a disposizione la Commissione grazie sì buon pomeriggio volevo integrare quanto ha detto il Presidente relativamente al piano nazionale degli aeroporti in particolare per due aspetti uno un elemento cruciale nel piano nazionale degli aeroporti che noi abbiamo sviluppato è quello relativo ai voli cargo che andiamo sicuramente a rivedere anche a seguito dei commenti pervenuti in particolare gli orientamenti che stiamo mettendo a punto riguardano la separazione tra la parte diciamo volo old cargo e i cosiddetti voli carrier che hanno necessità e esigenze diverse e che poi portano in qualche modo al trasporto delle merci all'interno delle cabine dei vani cargo degli aeromobili passeggeri nel contempo cerchiamo di mantenere quello che era l'indirizzo che abbiamo dato di uno sviluppo orientato in qualche modo individuando degli aeroporti strategici e degli aeroporti a supporto delle attività a cargo e non vogliamo necessariamente o assolutamente penalizzare gli altri aeroporti per lo sviluppo delle attività a cargo ovviamente questo va visto in un'ottica di diciamo compatibilità ambientale e compatibilità con lo sviluppo operativo dell'aeroporto stesso quindi ci sarà un orientamento su questo aspetto tenendo anche conto di quello che erano i contenuti del position paper che fu elaborato nel 2017 dal MIT e noi eravamo ovviamente uno dei soggetti che hanno influenzato i contenuti di questo position paper cercando di andare a individuare quegli aspetti che possano facilitare lo sviluppo del settore cargo in particolare andando nella direzione della digitalizzazione che effettivamente potrebbe far recuperare al settore cargo nazionale quel gap che in parte lo penalizza rispetto ai principali hub internazionali un altro aspetto relativo al PNA è che diciamo l'attività non si esaurisce esclusivamente con la tesura definizione del PNA ma implica come tutti i piani secondo quello che sono previsioni del codice dell'ambiente l'esito positivo della valutazione ambientale strategica che noi stiamo portando avanti in parallelo allo sviluppo del piano nazionale degli aeroporti in particolare abbiamo già definito col ministero dell'ambiente la fase di scoping con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders di carattere ambientale che ci sono stati indicati dallo stesso ministero e nella definizione della versione definitiva del piano nazionale degli aeroporti terremo conto anche degli esiti di questa consultazione a conclusione della stesura definitiva del piano nazionale degli aeroporti andremo a presentare al ministero dell'ambiente il rapporto ambientale di cui il piano nazionale degli aeroporti sarà uno degli allegati ovviamente siamo perfettamente sintonizzati con le direzioni competenti del ministero dell'ambiente e cercheremo di portare avanti in tempi ristretti anche questa valutazione addizionale ulteriore elemento volevo dare un po' un quadro di quello che è lo sviluppo delle attività connesse con gli oneri di servizio pubblici il presidente ha accennato l'aspetto della Sardegna per quello che riguarda la Sardegna e in particolare per quello che riguarda Cagliari e Olbia la situazione si sta risolvendo in questi giorni con la messa in vendita dei biglietti in quanto abbiamo avuto e stiamo aspettando il nullo ostre della regione Sardegna abbiamo avuto l'operativo da parte degli operatori quindi Ida Volotea attendiamo quello di AeroItalia per Olbia per quello che riguarda diciamo la Sicilia noi stiamo andando a definire i nuovi oneri di servizio pubblico per le isole minori quindi diciamo abbiamo una procedura per cui la richiesta di offerte scade a febbraio di quest'anno e quindi dopo di che andremo a definire coloro che diciamo soddisfaceranno i requisiti per le rotte Lampedusa Catania Lampedusa Palermo Pantelleria Palermo Pantelleria Travani stiamo andando avanti anche per quello che riguarda la Toscana in particolare l'isola d'Elba con il rinnovo della convenzione in scadenza il 31 ottobre 2023 stiamo partendo con i bandi per la Calabria in particolare i bandi sono già partiti almeno quello per Crotone e il bando scade il 25 gennaio del 2023 e stiamo predisponendo le gare per quello di Reggio Calabria Crotone in particolare fa riferimento al Crotone Fiumicino mentre Reggio Calabria è relativo Reggio Calabria Bologna Reggio Calabria Torino Reggio Calabria Firenze stiamo completando e ragionevolmente a venerdì di questa settimana la conferenza dei servizi per quello che riguarda la Regione Marche e inizio settimana prossima per quello che riguarda la conferenza dei servizi con il Friuli Venezia Giulia per le tratte Trieste-Linate e Trieste-Amsterdam per quello riguardo le Marche abbiamo Ancona-Linate Ancona-Fiumicino e Ancona-Napoli l'ultimo aspetto che volevo toccare era quello dei servizi cui accennava anche il Presidente noi diciamo a seguito delle segnalazioni pervenute abbiamo attivato dal mese di giugno un monitoraggio stretto di carattere settimanale per quello che riguardava la situazione dei voli per le varie destinazioni dagli vari aeroporti nazionali in particolare abbiamo riscontrato durante il periodo estivo intanto un aumento considerevo di circa il 30% dei voli rispetto al 2021 un aumento ridotto intorno all'1 1,5% per quello che riguardava i voli cargo e comunque erano quelli che anche durante il periodo della pandemia avevano evidentemente retto maggiormente il confronto e un aumento di circa il 70% dei passeggeri per quello che riguarda i disservizi che ci sono stati come diceva il Presidente l'Italia ha retto bene abbiamo avuto evidentemente dei disservizi diciamo non dico significativi ma insomma di qualche percentuale intorno al 3% diciamo il 2% di cancellazioni e intorno al 3,5-4% di ritardi superiori alle 2 ore in particolare per i voli internazionali che in qualche modo risentivano della situazione proveniente diciamo delle destinazioni estere più limitata intorno al 2% erano i ritardi le cancellazioni e 1% le cancellazioni intorno al 2% i ritardi per i voli nazionali e abbiamo riscontrato poi una abbiamo valutato anche come si comportavano i diversi aeroporti in funzione del del numero dei passeggeri che erano diciamo diciamo principalmente in quegli aeroporti e quindi abbiamo avuto un'incidenza intorno al 4% per i ritardi sugli aeroporti scusate per le cancellazioni sugli aeroporti al di sotto i 3 milioni di passeggeri mentre intorno al 1,5% per gli aeroporti sopra i 3 milioni di passeggeri e un percentuale di ritardi sopra le due ore del 3% circa per gli aeroporti sopra i 3 milioni e del 2,8% sugli aeroporti sotto i 3 milioni abbiamo riscontrato che tra gli operatori quelli che avevano ritardi maggiori tra i voli tra gli operatori nazionali e i vettori low cost stabiliti in Italia erano questi ultimi che in qualche modo contribuivano maggiormente ai disservizi di servizi che peraltro si sono principalmente concentrati sulle prime settimane e poi sono via via ascemati man mano che il sistema del trasporto aereo in Italia riusciva ad adeguarsi a quelle che erano le situazioni che si stavano verificando abbiamo inoltre attivato un monitoraggio analogo durante il periodo natalizio e abbiamo riscontrato dei numeri decisamente più bassi in particolare abbiamo avuto cancellazioni non superiori all'1% e ritardi sopra le due ore intorno all'1 e 4% tenete conto che in particolare per quello che riguarda le cancellazioni è intervenuto l'aspetto meteorologico che specialmente nei mesi di dicembre e specialmente in Europa ha avuto un grosso impatto sui voli con questo credo di aver coperto un po' gli aspetti principali e anche io sono disponibile ovviamente a rispondere alle vostre domande grazie mille passiamo quindi gli interventi deputati a facoltà il deputato cantone grazie presidente ringrazio il presidente di palma per l'esposizione insomma in linea generale di quello che è il nuovo piano nazionale aeroporti noi abbiamo più volte udito nell'ultima legislatura lei su questo tema abbiamo portato all'attenzione di ENAC alcune delle tematiche che riteniamo essere importanti e che sembrano essere state colte proprio da ENAC quale è la sostenibilità dei sistemi aeroportuali noi sappiamo che più del 50% dell'inquinamento emesso insomma dei consumi ambientali di un aeroporto derivano dagli spostamenti delle vetture private da e per l'aeroporto dei passeggeri quindi alla luce di questo sarà proprio interessante capire come nei prossimi anni ENAC si interloquirà con anche le amministrazioni degli enti locali per cercare di attuare dei piani di sviluppo che evidentemente insistono anche nelle aree urbane e nelle aree degli aeroporti per quanto riguarda la funzione di ENAC è chiaro che un ENAC forte significa un trasporto aereo un'aviazione sana e forte che contribuisce in maniera importante allo sviluppo del nostro paese essendo un'industria in crescita in crescita nonostante diciamo negli ultimi due anni di pandemia i numeri nei prossimi vent'anni dovrebbero raddoppiare noi avevamo posto nell'ultima legislatura il tema dei droni come possibilità di sviluppo importante il volo dei droni cambierà sicuramente le condizioni di sicurezza di safety security ma anche del controllo del traffico aereo nelle aree urbane metropolitane ci sarà probabilmente la necessità di digitalizzare tutte le mappe che riguardano le aree industriali su cui attualmente alcune tipologie di droni non possono sorvolare ma anche le aree militari insomma c'è da rivedere da approfondire come si svilupperà questa digitalizzazione noi ci auguriamo che questo avvenga in tempi abbastanza brevi e rapidi perché lo sviluppo dei droni evidentemente nel prossimo decennio cambierà anche le abitudini dell'utenza per quanto riguarda gli spostamenti dei piccoli aeroporti soprattutto per le isole minori lei ha citato l'insolarità che è un principio inserito da poco in Costituzione e questo le chiedo come sarà attenzionato in maniera un po' più specifica se è possibile saperlo per quanto riguarda gli oneri di servizio pubblico che chiaramente incideranno da come ENAC interverrà su questi oneri di servizio pubblico così come sugli aiuti ai gestori aeroportuali dipenderà lo sviluppo degli aeroporti che probabilmente non rientrano in quel 90% tra i nanti per quanto riguarda il settore del trasporto aereo ma che saranno fondamentali per lo sviluppo di questa nuova mobilità aerea quindi le domande sostanzialmente che le rivolgo sono due la prima per quanto riguarda appunto gli oneri di servizio pubblico in che modo si cercherà di intervenire quindi per rendere più competitive le nostre tratte che in alcuni casi sono le tratte più repunerative d'Europa e quindi sono molto richieste dalle compagnie ENAC dovrà favorire questo questo sviluppo di queste tratte aeree e la seconda riguarda invece proprio la natura di questo piano nazionale aeroporti si sta passando sempre di più a un sistema integrato aeroportuale con 13 sistemi aeroportuali in altri paesi esiste già un sistema un gestore unico ecco quanto è lontana alla strada allo stato attuale per arrivare a un gestore unico nel nostro paese e se è quello alla fine l'obiettivo a lungo termine di ENAC nel portare avanti già questo che è un passo fondamentale per lo sviluppo del sistema del trasporto aereo nazionale grazie collega parola al collega Amici innanzitutto grazie per la presenza al direttore e al presidente per l'audizione preziosa affascinante futuristica che ci permetterà anche di andare poi a meglio analizzare la proposta presentata tramite il PNA Fratelli d'Italia si è presentata agli elettori con un programma chiaro in materia di traffico aeroportuale per noi sono fondamentali alcuni punti tra cui questi sono ad esempio incentivare lo sviluppo del sistema aeroportuale attraverso una revisione del piano nazionale degli aeroporti grazie al quale il ruolo di compagnia di bandiera possa qualificarsi come più efficiente e corretto a oggi e connettere in modo più efficace tutto il territorio italiano dell'Europa in modo che gli scambi commerciali corrono più rapidi e si compie un passo avanti nel colmare lo storico divario tra nord sud isole del paese oggi siamo qui a discutere in guida di un nuovo piano nazionale degli aeroporti e certamente per un partito come i Fratelli d'Italia ha sempre invocato questa svolta un fatto importante se non fondamentale direi aggiungerei anche vitale per la nostra nazione il trasporto aerocivile rappresenta per noi un comparto strategico essenziale per la nostra economia già che si interconnette strettamente con la nostra industria con il flusso di esportazione dei prodotti italiani e soprattutto col turismo tutti aspetti della nostra economia che dopo l'emergenza pandemica come abbiamo sentito citare prima dal presidente devono inevitabilmente trovare presupposti di ricrescita in uno scenario globale sempre più competitivo a partire dagli anni 80 l'Europa è stata teatro di una progressiva liberalizzazione e privatizzazione dell'aviazione civile un processo che è scaturito da una complessa giuristrugenza comunitaria elaborata nel corso del tempo questo lavoro si è sempre più caratterizzato di un costante appello all'innovazione tecnologica e alla tutela dall'ambiente con un focus particolare come si attende dal mercato la cui crescita sia esponenziale sugli scenari satellitari tutto questo nell'ottica di razionalizzazione dell'impiego degli spazieri e di un'adeguata risoluzione dell'annoso problema della saturazione delle capacità aeroportuali di cui soffriamo noi grandi scali europei come abbiamo sentito e anche quelli italiani in parte ci mette in condizione questo percorso di superare nettamente quel dirigismo frutto di una politica ormai datata che ha sempre avuto come presupposto l'esigenza di tutelare vecchi monopoli questo potrebbe essere la via per creare condizioni per un consolidamento del trasporto aerocivile del nostro paese nel contesto della comunità europea con una particolare sensibilità verso la necessità legata alla mobilità dei cittadini in ambito europeo a rappresentare non solo a livello geografico ma anche sul piano sociale e culturale la nostra identità nazionale se non oggi almeno per le generazioni future il piano nazionale degli aeroporti recepisce le linee guida del decreto del ministero dell'infrastruttore e quella della mobilità sostenibile del marzo del 2022 i cui punti qualificanti sono tra i primi la sfida ambientale alla sostenibilità la capacità di resilienza dalle strategie alla base dei piani di sviluppo in caso di scenari futuri che possono produrre impatti notevoli sul comparto dell'aviazione civile l'evoluzione tecnologica con l'accelerazione dei processi di digitalizzazione impatto dei cambiamenti climatici come abbiamo sentito e la piena integrazione funzionale rispetto al territorio e alla rete di trasporto in una logica intermodale che abbia come scopo anche di ridurre le sperequazioni che tra zone e il paese caratterizzate a differenti livelli di eccessibilità ai servizi di trasporto ci permettiamo quindi di fornire alcune osservazioni che sono desunte da quello che possiamo definire il nostro patrimonio programmatico riteniamo essenziale superare le logiche localistiche direi quasi campanellistiche attraverso il potenziamento del ruolo degli scali aeroportuali laddove questi svolgono un reale funzionamento strategico per la mobilità dei cittadini e delle merci in questo senso il trasporto aereo delle merci deve cessare di rappresentare un argomento spinoso vanno valorizzati quegli scali abbiamo sentito proprio qui il ministro dei trasporti in sede di audizione citare ad esempio il Brescia-Montichiari che hanno un potenziale non opportunamente sfruttato anche unicamente in ragione della loro collocazione geografica di indubbia strategità argomento che sta a cuore a tutti è il problema dei rincarii dei costi dei trasporti aerei conseguenza di un processo che si è delineato chiaramente nel contesto dell'emergenza pandemica ma che probabilmente ha presupposti precedenti di questo problema spieghiamo una soluzione ad ottobre con il voto favore del nostro gruppo in Parlamento europeo abbiamo condiviso la proposta di tornare al tasso di utilizzo delle bande orarie standard pre-pandemia dell'80% a partire dal 30 ottobre del 2022 attualmente sono a 64% che erano state fissate per la stagione estiva 2022 ma allo stesso tempo di prolungare la possibilità di utilizzare lo strumento del non utilizzo giustificato delle bande orarie genus creato durante la pandemia la pandemia stessa ha evidenziato che le regole sugli slot non rispondevano adeguatamente ai disturbi termine tecnico radieristico su larga scala la guerra in Ucraina ha dimostrato che il traffico aereo e la capacità delle compagnie aeree di soddisfare i normali requisiti di utilizzo degli slot può essere seriamente condizionato da ulteriori imprevedibili eventi su note specifiche vado alla conclusione alla luce dell'analisi fin qui svolte riteniamo sia essenziale il dialogo con gli enti locali per rafforzare innanzitutto la linea interna anche in ragione delle varie carenze delle linee ferroviarie come ad esempio sempre più evidenti e suggeriamo con convinzione di dare ascolto agli enti locali partendo dal nord Italia fino a sud e isole ricordandoci che ci sono regioni che attendono di avere collegamenti aerei è il caso ben noto della Basilicata che dispone solo di una pista di atterraggio definita come aviosupervice Enrico Mattei a Pisticci scalo in provincia di Matera crediamo sia il tempo di dotare anche la Basilicata di un suo aeroporto quindi la domanda è sperando che questa regione venga inserita nelle regioni che prima abbiamo sentito che non ho sentito citare e come vorrà la luce facendo un po' eco anche il collega che mi ha preceduto come Enac pensa di rafforzare concretamente le linee aeroportuali che abbiamo sentito prima grazie grazie mille parola adesso a facoltà il collega Caro Po grazie presidente ringraziamento il presidente e i responsabili di Enac per il confronto e per una per una ripresa di un approfondimento su un piano che per chi c'era nelle precedenti legislature già in stadio più avanzato per chi per la prima volta inizia in qualche modo a prendere misure in linea di massima da parte nostra c'è una condivisione di quella che è l'impostazione da parte di Enac del piano ritengo però che manchi lo dico anche da relatore in questa commissione sul regolamento TNT quindi il regolamento europeo di organizzazione della rete dei trasporti mi pare ho dato uno studio studiato il vostro piano mi pare che manchi l'approccio legato ad una configurazione della rete europea dei trasporti e quindi anche la collocazione la classificazione degli aeroporti e su questo ne approfitto quindi visto che siamo in sede di audizione anche per quanto riguarda il regolamento TNT se Enac ritiene che la proposta di regolamento fatta dalla commissione e quindi con la classificazione degli aeroporti che sostanzialmente rimane in Italia sia valida o ha bisognerebbe di una modifica io per esempio vedo che nel vostro piano a pagina 21 si fa riferimento agli aeroporti che movimentano oltre l'80% per singolo paese sostanzialmente fatta eccezione per Pisa e Bari coincidono con quelli che sono gli aeroporti core della rete TNT e quindi la valutazione sarebbe capire invece rete TNT sulla Pisa e Bari non sono classificate come invece aeroporti core quindi su questo vi chiedo una valutazione e se in questo spazio seppur residuale di confronto della commissione europea e del Parlamento europeo in fase di valutazione ci possa essere un'apertura per una valutazione di questo tipo lei parlava Presidente ha parlato di un aspetto molto importante per quanto riguarda il futuro e faceva riferimento appunto all'Air Urban Mobility individuando il piano ENAC individua l'aeroporto di Taranto Grottaglie come il primo spazioporto in Italia sicuramente un po' questo è un annuncio che va avanti da molti anni ENAC correttamente da più di un decennio ha individuato ha intrapreso in anticipo una strada e su questo anche i vari governi che si sono succeduti a volte più a volte meno hanno accompagnato ENAC in questo proposito un po' però i tempi da un punto di vista europeo si affrettano altri paesi bruciano le tappe settimana scorsa abbiamo assistito all'inaugurazione da parte della Svezia con la presenza del Presidente della Commissione von der Leyen del primo spazioporto svedese la Norvegia è avanti Gran Bretagna è avanti il Portogallo accelera allora su questo io credo che quello che ENAC fa in questo piano è una cosa molto importante con un'individuazione con una classificazione con un'individuazione anche questo nell'ultimo dibattito che c'è stato in Consiglio Trasporti del 5 dicembre mi pare di aver letto che il Consiglio propone anche nell'infrastruttura aerea l'inserimento dei cosmodromi e degli spazioporti quindi questa è una cosa molto importante che ritengo che il governo poi debba sostenere in sede di trilogo insieme con in sede di negoziazione riguardo tornando allo spazioporto di Grottaglie però credo che la costituzione di Cryptalia e Spaceport pecchi a mio modo di vedere di provincialismo nel senso che gli altri stati europei vanno a tutti gli effetti con i principali con i pesi massimi lei citava l'importanza del ministero degli esteri per esempio nella costituzione dello spazioporto come sarà importante la presenza dell'ex Mise del Mimit come sarà importante diciamo in generale il governo italiano che si è rappresentato mi pare che l'associazione Cryptalia e Spaceport che sarà darà luogo successivamente ad una fondazione invece si fondi su un aspetto più chiuso e quindi ritengo che andrebbe invece la presenza dei pesi massimi del governo ecco di sostenere proprio perché gli altri corrono e non vorrei che una grandissima intuizione che proprio Enac e non solo ha avuto non possa coglierne appieno le possibilità e quindi mi auguro che diciamo questo possa essere il primo confronto ma sono convinto che il lavoro che si sta facendo darà grandi soddisfazioni per il sistema aeroportuale italiano grazie grazie a facoltà adesso la collega Maccanti grazie presidente l'intervento del gruppo della Lega si dividerà tra me e il collega Furguele anche da parte del gruppo della Lega l'apprezzamento per la relazione del presidente e del direttore la condivisione di massima del piano e l'apprezzamento e la soddisfazione naturalmente perché siamo ritornati addirittura a numeri più alti per quel che riguarda il traffico aereo rispetto alla pandemia quindi insomma nella precedente legislatura a questa commissione il Parlamento si è impegnata molto anche per i sostegni agli aeroporti devo dire che la ripresa del traffico aereo ci tranquillizza anche da questo punto di vista e ovviamente esprimiamo grande soddisfazione esprimiamo anche soddisfazione presidente per il passaggio che ha voluto fare rispetto ai piccoli aeroporti alla valorizzazione dei piccoli aeroporti anche attraverso una mobilità aria questo è un passaggio che come gruppo lega abbiamo particolarmente apprezzato così come raccogliamo e come dire credo che tutta la commissione sia anche a disposizione rispetto a questo alla suggestione o comunque all'opportunità che il trasporto aereo rientri appunto all'interno del PNRR su questo ci tengo aggiornati perché evidentemente magari noi come commissione possiamo anche supportarla con una mozione insomma con una discussione perché ci pare ovviamente nella condivisione totale naturalmente di questo percorso una sola domanda che guarda un po' al futuro proprio in queste ore stiamo leggendo tanti articoli di giornale sulla mobilità aerea e sull'opportunità di quello che viene adesso definito il taxi volante allora volevo chiedervi intanto se c'era un piano ENAC per i cosiddetti vertiporti e quindi da questo punto di vista come si sta sviluppando questo ragionamento e poi Presidente magari e lo proporrò anche nel corso dell'ufficio di presidenza se è possibile organizzare una visita per la commissione per comprendere come questa modalità di trasporto potrà nel futuro davvero rivoluzionare anche il trasporto pubblico locale credo di linea e non di linea del nostro paese quindi ripeto lo proporrò magari in ufficio di presidenza coordinarci per poterci rendere conto di persona di che cosa accadrà di cosa è un vertiporto e anche mi permetto di dire di cos'è un taxi volante però se ci può da questo punto di vista anticipare qualcosa e poi interverrà nel merito del piano anche il collega Furgiuele grazie grazie collega Maccanti parola al collega Furgiuele grazie Presidente ovviamente mi associo a quelle che sono state diciamo le valutazioni della collega capogruppo Maccanti ringrazio do il benvenuto faccio gli auguri di buon lavoro ai vertici dell'Enac ovviamente abbiamo apprezzato quello che è stata la disquisizione rispetto al piano che ci è stato presentato e fa piacere vedere dei numeri che stanno aumentando quasi non ci si sperava più durante il periodo della pandemia è una relazione che ci proietta verso il futuro in parte è stato detto da chi mi ha preceduto Enac sono d'accordo che sia un organo che si occupa anche di altro ho avuto io modo di constatarlo per quanto concerne gli investimenti sulla ricerca la questione del trasporto aereo avanzato di cui lei ha parlato proiettandoci un po' in più in là nel futuro è una testimonianza plastica di quello che potrebbe essere l'aspetto della intermodalità che ci aspetta nel prossimo futuro a questo aggiungere la possibilità di una integrazione intermodale aria-aria è un qualcosa che evidentemente va un po' non dico in controtendenza però direi anche a supporto di quello che è contenuto nel PNRR e che evidentemente come diceva la mia collega Maccanti dovrebbe essere supportato da una commissione come questa che potrebbe far comprendere come all'interno di quella somma di denaro che è destinato al nostro territorio nazionale ci sarebbe una piccola incidenza magari che però potrebbe avere un effetto moltiplicatore come quello di cui lei ha parlato relativamente allo scalo aeroportuale della storia dello scalo aeroportuale di Bergamo ora sulla scorta di questa integrazione intermodale io andrei ad una domanda che riguarda però rispetto al futuro il presente io le chiederei quali azioni ritiene necessarie affinché le connessioni intermodali già programmate quelle che già esistenti possano essere realizzate in tempi certi e siano avviati i processi di pianificazioni per le altre che riguardano non soltanto il trasporto con il ferro ma anche quello gomma 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 poi le chiederei anche una domanda di carattere un po' più diciamo economico relativo per esempio a quello che dovrebbe essere l'adeguamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione mi pare ci siano state diciamo delle contrapposizioni ci sono state diciamo dei contenziosi con dei concessionari stante il livello raggiunto dell'inflazione quale potrebbero essere diciamo le iniziative e poi ultima domanda il partenariato pubblico privato nella gestione delle rete aeroportuali quale termine di sviluppo potrebbero avere la ringrazio sicuramente mi associo a quello che ha detto il mio capogruppo sul fatto che la Lega ha apprezzato molto quello che è stata la sua relazione grazie e adesso ho parola al collega Fede a cui do il benvenuto ufficiale nella nostra commissione grazie presidente grazie a tutti per i benvenuti innanzitutto io approfitto per ringraziare il presidente dell'Enac e l'Enac per il lavoro svolto e per la reazione che avete fatto mi farebbe piacere approfondire alcuni aspetti che potrebbero essere delle domande da mio giudizio di valutazione ossia noi abbiamo un sistema ad aeroportuale che voi avete stabilito nel piano e ribadito che tuttavia a livello infrastrutturale secondo me paga un pochettino le scelte sbagliate nel passato di molte regioni che con l'enfasi di voler fare il proprio aeroporto di regione insomma con quella forma da faraoni di fare ciascuno il proprio hanno ragionato non proprio in termini di rete e questo è un pochettino la differenza che c'è fra l'autonomia e il coordinamento che compete e deve essere dovuta alla nazione quindi spesso ci troviamo tanti aeroporti che sono inefficienti che non riescono a mantenere i costi di gestione che non garantiscono una sostenibilità economica che diventano dei buchi profondi e buchi neri per molte regioni io vengo dalle Marche e abbiamo assistito al fallimento del nostro aeroporto e alla difficile compatibilità di aeroporti come Pescara Ancona Perugia Rimini insomma quindi questo è un pochettino quando si va fuori dal coordinamento e in un livello di autonomia che non è compatibile con la sostenibilità di quella che dovrebbe essere una rete intesa come nazionale per poter funzionare e poter poi anche attivare quella interoperabilità che è fondamentale l'ha detto anche lei Presidente parlando anche di futuri scenari che sono magari dimensionalmente più adatte a regioni più piccole e più complesse e più difficili da gestire lei proprio per la zona da cui vengo ha citato la linea adriatica e quando sia complesso raggiungere dall'adriatica al tirreno in forma veloce la mancanza di un trasporto aereo io penso ma non lo dico come ha fatto personale ma come ha fatto il rappresentante di un territorio penso di essere uno dei pochi parlamentari che viene a Roma con la propria auto perché non ha trasporto pubblico né su ferro né aereo e allora una soluzione per tante regioni di un'Italia che non è solamente al sud messa male sul piano dei trasporti potrebbe essere quello che lei ha accennato e io la ringrazio anche perché è una visione che condivido che è quella di ricorrere a dei mezzi di trasporto più snelli lei faceva l'esempio dell'azienda italiana la Tecnam che ha un 11 posti 2 più 9 che si presta bene viene usata anche all'estero anche per atterrare i radiosuperfici quindi in aeroporti ma non per moltiplicarli ulteriormente ma per usare tutta quella rete che c'è a vari livelli e che potrebbe garantire i servizi di aerotaxi compatibili e complementari con i trasporti di linea e quindi questo sarebbe un discorso da sviluppare proprio per poter produrre nuovi modelli che vadano a colmare quelle fasce di mercato che altrove e anche all'estero vengono gestite molto e quindi questo dovrebbe essere un obiettivo da seguire e oltretutto il direttore Eminente faceva riferimento anche alla conferenza dei servizi che è in corso se non mi sbaglio per le marche e credo che fosse quella per la continuità territoriale che è stata istituita grazie a un emendamento a prima firma Lupo Fede Coltorti e proprio va a colmare questo tipo di spazi però anche lì dobbiamo creare queste connessioni un altro esempio che faccio presidente è proprio l'esempio che diceva lei di poter utilizzare l'aeroporto di Roma Urbe che quindi chiaramente è complementare al trasporto aereo insieme con Fiumicino e Ciampino poi però dobbiamo sempre pensare che se io impiego un'ora o anche meno per passare dall'Adriatica al Tirreno devo trovare anche quella connessione veloce per il centro di Roma che attualmente con i trasporti urbani è di quasi altrettanto un'altra ora insomma con i mezzi ordinari per il centro quindi dopo dobbiamo trovare un pochettino queste reti quindi penso che sia questo il compito e quindi insomma sono queste le cose che volevo segnalare e sì mi sembra che abbiamo detto tutto quanto insomma comunque grazie perché dobbiamo continuare a lavorare soprattutto in una logica di coordinamento nazionale e anche fra i varienti perché forse uno di questi problemi è che spesso ogni settore ha una parte della gestione di un sistema che invece deve essere coordinato meglio ma lo facciamo insieme voi già state lavorando quindi vi ringrazio anche per questo grazie presidente grazie a lei adesso è il turno della collega Ghirra prego sì grazie presidente anch'io ringrazio il presidente il direttore di ENAC per essere qua oggi spero che ci potranno essere ulteriori occasioni di approfondimento io mi scuso se sono arrivata fisicamente tardi mi ero impegnata nella giunta per il regolamento comunque vi ho ho provato a seguirvi da remoto e ho comunque dato uno sguardo a questo imponente direi documento che è stato elaborato e trovo che il cui aggiornamento trovo che arrivi in un momento anche di particolare rilievo vista la ripresa dei traffici aeroportuali dopo il periodo pandemico che segnano mi sembra un tasso positivo per quasi tutti gli aeroporti italiani mi piace che il piano si proponga in linea con gli obiettivi del PNRR l'obiettivo di perseguire la sostenibilità in tutti gli interventi l'integrazione modale è esplicitato che l'80% dei cittadini può raggiungere gli aeroporti in un'ora ma solo il 26% attraverso i mezzi pubblici credo che sarà importante uno sforzo aggiuntivo visto che abbiamo il polo delle infrastrutture costituito da RFI e ANAS lavorare perché ci sia un potenziamento del servizio pubblico anche per raggiungere i poli aeroportuali e sulla digitalizzazione anche degli aeroporti così come credo che l'obiettivo di ridurre le attuali disuguaglianze sia un altro diciamo obiettivo fondamentale io come il Presidente arrivo dalla Sardegna noi stiamo vivendo un periodo drammatico rispetto alla continuità territoriale aerea oltre che marittima ho sentito che appunto già alcuni colleghi hanno affrontato il tema della continuità degli ordini di servizio pubblico e quindi mi associo ai quesiti che sono stati posti volevo anche sottolineare e vorrei la vostra attenzione su un'altra questione che riguarda in particolare la rete Sarda e l'aeroporto di Cagliari nel senso che nella costituzione delle reti territoriali si sottolinea che la nuova configurazione prescinde dall'integrazione societaria però in un paragrafo del piano sembra evidenziare che laddove esiste un'integrazione delle gestioni ci siano dei funzionamenti migliori su questo io vorrei che ci spiegaste meglio nel senso che a differenza degli aeroporti di Alghero e Olbia all'interno della rete Sarda la maggiore proprietà della SOGAR che è la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari per il 94% è pubblica nel senso che è gestita dalla Camera di Commercio però è stata attivata una procedura attraverso un advisor per valutare la possibilità di cedere al gruppo F2I leganti alla gestione dell'aeroporto e quindi volevo capire con voi se poteste esplicitare in questa sede se la configurazione di quello che viene definito un monopolio sia come rilevato nel PNA una possibilità di meglio coordinare le sinergie manageriali o piuttosto se il monopolio della gestione del sistema aeroportuale non porti a far prevalere interessi di tipo economico su quelli della gestione di un servizio pubblico come l'aeroporto tenendo anche in considerazione che nel caso di Cagliari non si tratterebbe di una scelta di carattere economico perché la Fogare produce utili per 2 milioni di euro grazie grazie adesso il presidente Morassut e poi le ridiamo la parola grazie al presidente Palma e a tutto lo staff di Enac per questa illustrazione di questo piano che è molto importante per il lavoro della commissione e per diciamo il dettaglio con il quale ci è stato proposto e anche con alcuni diciamo nodi tematici importanti che sono stati sollevati e sui quali vorrei concentrarmi in particolare su uno che è quello legato alla possibilità di un ingresso diciamo del sistema aeroportuale e degli investimenti possibili di modernizzazione e di sostenibilità all'interno del PNRR questa mi pare un'idea molto molto importante e molto tuttavia diciamo visti i tempi stretti del PNRR perché comunque noi siamo ancora in un orizzonte temporale che ci che ci dà la data del 2026 per i possibili interventi ecco sarebbe importante capire come meglio si intende con quale volume di investimenti perché entrare in una delle linee del PNRR così come attualmente è strutturato anche con delle varianti vuol dire avere già diciamo comunque un'idea di fondo una linea di fondo di come entrare in questa discussione sostenibilità del sistema vuol dire ricordavano prima alcuni colleghi mobilità interna vuol dire intermodalità investimenti per la intermodalità vuol dire il tema del diciamo collegamento aria aria attraverso l'utilizzo anche per esempio dell'opportunità dei droni che evidentemente però comporta anche un collegamento e un coordinamento con l'altro ente che è l'ENAV del controllo del volo e anche la ristrutturazione fisica dei poli aeroportuali per l'utilizzo delle energie rinnovabili ecco questo pacchetto di interventi che evidentemente non è banale ma è molto importante io credo possa essere di grande importanza anche per dal punto di vista della sostenibilità del sistema paese in un orizzonte come quello del 2026 come può entrare e se noi contiamo già su un progetto minimamente preliminare già in qualche maniera delineato sul quale poter lavorare per ottenere questo risultato che mi pare evidentemente molto importante ma che ha bisogno di procedure perché sappiamo che le procedure di correzione del PNRR anche per i tempi stretti non sono semplici grazie presidente grazie a tutti i colleghi intervenuti prego la facoltà presidente di Palma grazie per tutti gli interventi evidentemente sono tutti interventi di carattere stimolante che permettono anche ad ENAC di meglio indirizzare diciamo la propria elaborazione in ragione anche del fatto che poi c'è una condivisione di fondo più o meno quanto meno per l'approccio e questo abbiamo anche diciamo avuto da tutti gli altri interlocutori tolto alcune posizioni diametralmente opposto ma marginali tra vettore e gestore in particolare per le linee guida degli orientamenti per gli aiuti di Stato per il resto tra virgolette un lavoro condiviso sicuramente eminente ha precisato che c'è un approfondimento sulla parte cargo che effettivamente nella prima stesura era stata un po' marginalizzata tra virgolette per colpa nostra ma ci stavamo lavorando sapevamo di avere un po' quel deficit però lo stiamo integrando per quanto riguarda i singoli quesiti cerco di essere rapido perché credo che poi avete anche altre attività da svolgere l'onorevole Cantone parla della sostenibilità ambientale effettivamente noi ne facciamo proprio il pilastro nel nostro PNA della riconciliazione evidentemente ambiente trasporto aereo evidente che questa integrazione fonda anche e l'ha detto anche prima eminente noi il piano lo elaboriamo insieme agli altri stakeholder cioè noi abbiamo avuto interlocuzioni nel comitato che abbiamo volutamente costituito con referenti delle ferrovie e di altre modalità di trasporto e continuiamo a lavorare con loro proprio per questa integrazione intermodale che evidentemente deve dare risposte anche al collegamento su strada verso e dall'aeroporto che chiaramente andrà verso l'integrazione intermodale ferrovie ma anche le auto elettriche quindi chiaramente il nostro piano è un piano di prospettiva è al 2035 perciò io credo che gli apprezzamenti anche che vengono alla commissione proprio perché questo piano è anche un po' sfidante cioè cerca di guardare a questo orizzonte futuribile senza neanche avere molte certezze però cerca comunque di delineare comunque un perimetro all'interno del quale anche la ricerca l'innovazione tecnologica può e deve fare la sua strada per quanto riguarda effettivamente l'idea del gestore unico è chiaro che ci affidiamo anche alle regole di mercato cioè nel senso che chiaramente le concessioni sono state rilasciate ai gestori per favorire ecco queste concessioni quarantennali all'epoca le ho fatte io da direttore generale infatti ho incontrato peraltro Draghi pochi giorni fa al cerimoniale e ho detto al presidente Draghi che non pensavo che mi avrebbe mai firmato il decreto da presidente visto che gli aeroporti furono sottratti alle privatizzazioni mentre Draghi era direttore generale del tesoro dove al contrario l'intuizione era in un momento in cui tra virgolette si drenavano risorse verso Roma tra virgolette l'idea di dare tra virgolette gratis la concessione quarantennale agli aeroporti era un modo per trasferire al territorio risorse molto importanti questa è anche un po' la risposta nel decreto 521 97 che scrissi io cioè è scritto che tra virgolette il pubblico doveva rimanere al 20% per chiamare l'assemblea ma chiaramente l'idea era una privatizzazione anche perché all'epoca gli aeroporti erano comunque tutte in mani pubbliche e quindi era un modo per favorire tra virgolette risorse verso il territorio che ne so Firenze salvò un bilancio con la vendita delle quote con la costituzione in borsa della società quindi evidentemente ha favorito per un periodo anche importanti risorse sul territorio poi se pubblico privato è meglio è chiaro che è una discussione che viene da lontano io sono un avvocato dello Stato e quindi tra virgolette tendo a dimostrare che anche il pubblico è bravo a gestire anche gli assetti burocratici senza essere burocrazia per quanto riguarda gli OSP la risposta è quella di prima cioè anche lì per la Sardegna sono stato da direttore generale il primo a volere gli OSP in Sardegna però diventano subito dopo al contrario uno strumento di blocco no perché mentre all'inizio gli OSP favoriscono tra virgolette un collegamento a prezzi più bassi dopo invece con l'avvento delle low cost fu un modo invece per favorire un oligopolio in Sardegna oggi si ritorna verso un sistema di quel tipo però tra virgolette è poco flessibile ce ne stiamo rendendo conto quindi con l'aiuto della politica e quello che diceva il Presidente Deida io credo che la nostra elaborazione potrà essere utile per una discussione aperta anche con la Commissione in cui negli orientamenti comunitari sugli aiuti agli aeroporti loro fanno riferimento solo al 102 del trattato mentre non fanno riferimento al 174 quindi perché gli orientamenti comunitari sugli aiuti al vettore non debbano essere interpretati anche alla luce del 174 se questo è possibile lo strumento che noi proponiamo sarebbe molto migliore degli OSP perché darebbe sicuramente meno rigidità proprio ai collegamenti e da quanto stiamo verificando costerebbe anche meno rispetto chiaramente a quello che oggi costano gli OSP l'intervento dell'Onore Amici io lo sottoscrivo c'erano alcuni passaggi tra virgolette che io ritrovo anche in alcune prefazioni dei miei libri quindi è evidente che condivido assolutamente in pieno quello che lei dice e chiaramente tutta questa idea dove c'è necessità di superare logiche campanilistiche è evidente però è chiaro io sono tra virgolette di grottaglie quindi è chiaro che da quando sono nato c'è sempre stata l'idea di far volare quell'aeroporto cioè non è facile tra virgolette mettere in discussione un aeroporto soprattutto per la politica cioè gli aeroporti sono tra virgolette strumento di campagna elettorale anche se non volano io mi ricordo campagna elettorale fatte sull'aeroporto di grottaglie che non ha mai volato cioè aveva raggiunto credo 50.000 passeggeri poi c'è stata Brindisi e da allora c'è sta guerra Brindisi grottaglie dobbiamo riportare è chiaro che il bacino d'utenza è quello però bisogna trovare vocazioni aeroportuali un po' per tutte le infrastrutture noi però lo diciamo anche credendoci attenzione che comunque le infrastrutture aeroportuali che è il nostro paese devono anche essere viste oggi come riserva di capacità perché oggi non è facile aprire un nuovo aeroporto realizzare un ulteriore aeroporto quindi avere una dotazione infrastrutturale già definita significa che in questa proiezione di crescita questi aeroporti rimessi a sistema diventano un'opportunità perché il nostro paese rispondendo anche c'è un passaggio all'inizio proprio di questa idea che il traffico aereo in definitiva si determina tra paesi diciamo no tra Asia Europa Europa America ovvero il contrario e quindi l'idea dell'analisi comunque del traffico continentale porta a ritenere che oggi l'Italia ha tenuto conto anche che ci sono oggi limitazioni ai aeroporti nord continentali possa in definitiva intercettare questo traffico in crescita e quindi noi lo diciamo anche in termini di comunicazione anche qui molto importante il rapporto trasporto aereo turismo in particolare noi lo diciamo da tempo attenzione quel 3% di PIL del trasporto aereo è un 3% molto importante perché favorisce il 12-13% del turismo senza quel 3% del traffico aereo e si è visto nel periodo pandemico gli alberghi sono vuoti quindi è evidente che tra virgolette noi rivendichiamo di poter tra virgolette anche a volte parlare per il 15% del PIL del nostro paese e non solo per quel 3% e quindi è per questo che noi chiediamo particolare attenzione al trasporto aereo che come cerco di dire ma tanti anni inascoltato che evidentemente il trasporto aereo porta ricchezza a un paese le altre mobilità distribuiscono la ricchezza all'interno del paese e quindi è importante cogliere questo elemento e tra virgolette come ho sempre rivendicato fare di questo PNA per quello che poi sarà proposto dal ministro continuo a dire questa è una nostra proposta mentre a voi arriva poi quella definitiva da parte del ministro per come lui intenderà correggere la nostra proposta e chiaramente secondo me deve essere il capitolo uno di qualche cosa di molto più importante di una politica dei trasporti sicuramente integrata la guerra in Ucraina evidente porta dei problemi sui costi e quant'altro il dialogo con gli enti locali per noi è pane quotidiano cioè noi sostanzialmente riportiamo sempre decisioni finali al presidente della regione qualunque esso sia cioè noi siamo organo tecnico valutiamo determinate percorsi determinate situazioni ma poi chi ci deve dire che si fa così o si fa colà deve essere chi effettivamente ha la responsabilità del territorio e dello sviluppo del proprio territorio e quindi per noi l'interlocuzione sempre con il presidente della regione di qualsiasi territorio è fatto fondamentale per la Basilicata Pisticci è una storia vecchia però nel senso che noi qua lo diciamo noi costruiamo il PNA sull'esistente e rimettiamo peraltro alla politica valutazioni se del caso di integrazioni di aeroporti e quindi l'idea che si postano poi definire nuovi aeroporti è qualcosa di estraneo a ENAC noi abbiamo lavorato esclusivamente e non è una competenza neanche di ENAC noi sostanzialmente abbiamo una competenza su quello che oggi è il sistema infrastrutturale esistente se poi la politica ritiene di realizzare un nuovo aeroporto per carità noi siamo a disposizione quindi qualificare l'aeroporto di Pisticci ma è una storia vecchia da aviosuperficie a aeroporto è chiaro che è un problema anche di investimenti anche molto importante l'intervento dell'onore io lo condivido in pieno cioè noi l'abbiamo detto anche sullo spazio porto in particolare noi vogliamo fare la lepre sullo spazio porto cioè nel senso che proprio avendo ritrovato questo vecchio progetto che viene dal 2012 c'era il governo Lupi presidente della commissione mentre noi eravamo presidente della commissione europea una riunione dei ministri dei trasporti riusciamo a far individuare Grottaglia come spazio porto quindi sotto la mia presidenza rilanciamo questa sfida tra virgolette ed ENA che si propone esclusivamente come lepre quindi l'altro giorno io ho incontrato il ministro Tagliani il ministro Tagliani sicuramente ci dà un supporto importante se nell'ambito della trasformazione dell'associazione in fondazione chiaramente rappresentanti del governo tra virgolette non solo volessero entrare ma sicuramente per noi sicuramente cioè noi stiamo facendo un servizio al paese tra virgolette quindi poter avere il governo all'interno diciamo di una struttura di questo tipo per noi è importante tant'è vero che noi stiamo cercando di organizzare un viaggio in America chiedendo sono stato l'altro giorno al capo di gabinetto chiedendo che ci sia la partecipazione governativa perché se andiamo da soli evidente non è che abbiamo tutta questa credibilità quindi sono stato a trovare il ministro Urso ho parlato con Salvini eccetera è chiaro che tra virgolette l'idea nostra è stimolare il governo a capire realmente che cosa vale che cosa significa uno spazio porto anche per quello che tra virgolette oggi è entrare nello spazio che ha anche riflessi diciamo con problemi fondamentali bomba atomica servizi segreti e quant'altro quindi qualcosa che va anche molto oltre tra virgolette le competenze dell'Enac quindi noi siamo assolutamente diciamo disposti per la rete TEN è lo stesso cioè noi tra virgolette condividiamo in pieno cioè la costruzione della rete TEN è stata la base un po' del sistema che oggi noi teniamo gli aeroporti superiori a 5 milioni di passeggeri uno per ogni regione eccetera eccetera e quindi guardiamo con attenzione il tentativo nostro nell'ambito del PNA invece è quello di individuare gli aeroporti di interesse nazionale per come lo dice il 698 che fa riferimento poi credo anche alla rete TEN nel credo si sì no mi sa che se posso aggiungere una cosa in merito all'ultimo è vero quello che lei dice che ci sono una serie di stati che stanno andando avanti noi abbiamo avuto interlocuzioni con i principali operatori di veicoli diciamo spaziali e abbiamo avuto grossi riscontri positivi da loro rispetto agli altri paesi in particolare gli inglesi oserei dire perché la normativa che noi abbiamo messo a punto è in qualche modo come posso dire è garante degli accordi che ci sono con gli altri in particolare con gli Stati Uniti cioè noi impostiamo una normativa in cui ci basiamo molto sui bilaterali è una cosa importante proprio sulla normativa noi stiamo approfittando di uno spazio di deregolamentazione dove chiaramente lo spazio porto oggi non ha una regolamentazione condivisa in sede e ASA quindi noi abbiamo già provato a differenza di altri paesi una regolamentazione per la realizzazione e costruzione dello spazio porto e adesso stiamo per definire anche la procedura di decollo e atterraggio però lo stiamo definendo all'interno di ENAC cioè con delibera del Consiglio d'amministrazione noi riusciamo a definire queste procedure che peraltro si innestano come diceva giustamente l'ingegnere cioè nell'ambito di un percorso condiviso in particolare con gli americani mentre gli inglesi hanno fatto qualcosa di completamente diverso e quindi noi ci troveremmo anche in una condizione assolutamente migliore visto tra virgolette che la tecnologia oggi disponibile è quella americana e non di altri paesi esatto e c'è stato un grande apprezzamento a questo punto di vista sia degli operatori che dell'FIA stessa quindi ho fatto una serie di incontri almeno tre tra l'FIA e alcuni operatori e tutti hanno apprezzato la nostra impostazione Poi per l'onorevole Maccanti piccoli aeroporti taxi volanti non ci fa che piacere poter organizzare credo lo diremmo ad aeroporti di Roma anche una dimostrazione proprio con il loro drone e chiaramente l'idea che comunque si possa sviluppare questa attività è chiaro che noi è da tempo cioè a Torino per esempio non più di un anno fa contestualmente hanno volato 1200 droni senza avere nessun conflitto piccoli droni quindi tra piccolette la capacità ENAC nella regolamentazione dei droni è molto avanzata e chiaramente noi crediamo molto che tutto questo possa diventare realtà anche a breve anche qui in ragione del fatto che poi ENAC ha questa capacità di regolamentazione che altri non hanno allora il limite del problema dei droni qual è? sono le rotte e allora noi stiamo perché poi lavoriamo insieme a ENAV e allora per evitare che i funzionari si debbano assumere la responsabilità nel mettere i timbri sotto le rotte l'idea che noi abbiamo è farne un regolamento che approva invece il Consiglio dell'amministrazione quindi un po' come il modello ICAO quindi avere una parte generale su come volano i droni e poi allegare delle rotte sperimentali e quindi già definire queste rotte come rotte sperimentali che invece di farle approvare dal funzionario che non metterebbe mai il bollo sotto quella rotta lo approviamo come Consiglio dell'amministrazione lo manderemo probabilmente alla vicinanza del Ministro a quel punto diventa un provvedimento strategico e sicuramente anche lì avremo la possibilità di avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi questo è un po' il percorso che noi stiamo facendo sull'intermodalità Forgiuhele sicuramente aria-aria noi ci siamo cioè tutto descritto l'aria-aria tra le riclette è un stimolo che diamo noi in più chiaramente ci crediamo e ci crediamo anche per le ragioni che si diceva prima per poter inserire i collegamenti aria-aria nell'ambito del PNRR che dovrebbero trovare nell'innovazione tecnologica la possibilità di finanziamenti e quindi sicuramente per il problema dei diritti del tasso di inflazione quella norma è in una vecchia finanziaria io penso che sia del 2006 no forse prima ancora dove si dice che se non vengono aggiornati e credo che abbiamo perso tante cause su questa cosa dei diritti aeroportuali non adeguati al tasso di inflazione però si deve andare a ricercare mi sa questo in una vecchia finanziaria però ancora vado gli operatori non gradisti come non gradisti però c'è l'attestamento poi fanno le cause e le vincono però bisognerebbe modificare la norma l'onorevole Fede fa riferimento alle sostenibilità aeroportuali chiaramente c'è una legge però in Madia che però in finanziaria mi sa che avete prorogato di un anno è chiaro che c'è il tema ed è per questo che noi cerchiamo di dire a questo punto cerchiamo almeno di integrarli questi aeroporti messi in rete cerchiamo di compensare quelle che possono essere perdite di un aeroporto rispetto a quelle che sono anche vantaggi un altro po' che chiaramente sviluppano un traffico superiore però alla capacità noi poniamo nello stesso PNA alcuni problemi per alcuni aeroporti siamo segnalati Bologna-Napoli e poi anche Ciampino come problemi di carattere ambientale quindi la crescita di Bologna non può continuare all'infinito quindi o quel traffico lo riescono a delocalizzare su alcuni di questi aeroporti allora c'è una crescita del traffico regionale oppure a un certo punto quel traffico a Bologna dove noi abbiamo appena avuto credo un accesso agli atti da parte di un'associazione ambientalistica proprio per un problema di Bologna che sta crescendo in maniera e allora l'idea della rete chiaramente porta a dire utilizziamo al meglio cioè è chiaro che conosciamo bene quella che è la guerra Rimini-Forlì che viene da lontano e che si replica però chiaramente quegli aeroporti esistono i problemi italiani li conosciamo e quindi è complicato per quanto riguarda l'urbe sì noi penso che faremo questo progetto molto importante che nasce proprio anche da questa idea di avvicinare soprattutto l'Adriatica a Roma è chiaro con un'integrazione di trasporto che all'urbe poi può portare al centro della città e lo stiamo sviluppando peraltro con il Cassa Depositi e Prestiti che peraltro hanno dei finanziamenti per fare degli studi proprio su questo e quindi dovremmo avere un incontro la settimana prossima con il Cassa Depositi e Prestiti noi siamo già avanti nello studio e credo che anche lì con l'aiuto poi delle regioni riusciremo a mettere in piedi un sistema assolutamente che si terrà in piedi di per sé l'onorevole Ghirra sì il problema del mezzi pubblici al solo 26% è chiaro che lo conosciamo la digitalizzazione quant'altro anche lì la descriviamo ma la descriviamo come trasporto aereo cioè nel senso che i problemi dell'integrazione intermodale che noi ci siamo posti noi l'avevamo posto già vent'anni fa cioè noi avevamo chiesto di poter realizzare noi come trasporto aereo le stazioni in aeroporto non ce l'hanno fatto fare cioè noi abbiamo realizzato gli aeroporti poi Bari per esempio ha scassato l'aeroporto e ha fatto la stazione dopo è chiaro che c'è un tema però politico a questo punto in particolare sull'integrazione tra i diversi soggetti che hanno competenze diverse per quanto ci riguarda noi siamo sempre stati aperti all'integrazione con le altre enti e società il contrario è un po' più complicato sul PNR Morassut siamo assolutamente in linea noi da quando stiamo comunque rendicontando già tutto secondo PNRR è chiaro che c'è da capire da un problema di carattere politico se si riesce a ricontrattare e aprire anche alla parte resiliente del trasporto aereo la possibilità di accedere a quei fondi e noi su quello non solo portiamo progetti esecutivi che si realizzano nel 26 ma probabilmente già opere realizzate che comunque già andrebbero rendicontate secondo PNRR peraltro incidendo credo al massimo un miliardo noi abbiamo fatto un po' i conti quindi su una parte marginale che però in un sistema aeroportuale darebbe sicuramente particolare importanza a questa attenzione se posso integrare di fatto i progetti che vengono proposti dai gestori aeroportuali noi chiediamo che evidenzino gli aspetti di sostenibilità ambientale digitalizzazione innovazione tecnologica già nella stesura del progetto e quindi siamo in grado di capire quanto questi aspetti rispetto a 100 nel totale del progetto quotano e quindi siamo in grado di individuare quei progetti che più di altri diciamo vanno a toccare queste modalità e quindi anche rendicontarle evidentemente quindi da questo punto di vista come diceva il Presidente sia per opere già realizzate che per opere in corso di approvazione a livello dei progetti esecutivi abbiamo un quadro già ben definito Grazie vi ringrazio seguitamente da parte anche di tutti i colleghi non è un avvertimento vi richiameremo presto perché la Commissione sta portando avanti un'idea in conoscitiva sulla continuità territoriale promossa sia dal Partito Democratico e poi condivisa anche con tutti i commissari perché ci teniamo a mozzo che c'è la possibilità di una commissione quello si è un progetto approvato in finanziaria insieme ai fondi sulla continuità territoriale c'era un progetto di legge c'è una proposta di fare una commissione bicamerale quello è lo studio vediamo anche volentieri guardi quando si propone la politica gratuito è sempre ben accetto grazie grazie veramente per il contributo dato la rizzona è chiusa c'è uff grazie